Allora, siamo in via Montefeltro e questo è l'ultimo appartamento rimasto di questo intervento. Questo è il nostro giardino privato, ben delimitato. Qui davanti avremo due posti auto. Come vedete è stato fatto il cappotto. Ed entriamo nell'appartamento che è veramente in fase di ultimazione. Il bagno e poi qui abbiamo un'ampia zona giorno, impianto di riscaldamento a pavimento. Qui abbiamo la nostra zona cucina con un'ampia finestratura. Qui verrà creato uno spazio esterno dedicato solo al nostro appartamento. Poi abbiamo pubblicato la piantina per capirne le dimensioni. E saliamo alla zona notte. Dove troveremo due camere e un bagno. Come vedete i lavori sono molto avanti. Allora, bagno gigantesco. Finestrato, piatto doccia, camera uno. Anche l'esposizione è ottima. Luminosissima. E questa è l'altra camera. Bene, è l'ultimo. Non fatevelo scappare. Grazie. 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 Grazie.